Perfetta, ha sfruttato l'errore dei centrocampisti, sembrava poter, aveva la possibilità anche di concludere di prima intenzione senza deliberare il portiere Cervini perché è anche nella zona abbastanza centrale per concludere, poi è bravo in veloce superare e a sapere dove si trova, nel senso che è anche molto defilato, ha comunque chiuso con il piatto del destro il pallone e l'ha messo in porta per 1-0. Devo dire Alessio che questa Roma che sta crescendo con tanti giovani di talento, con tanta...